Buongiorno Friuli, apriamo anche questa mattina le pagine sportive sui quotidiani locali e nazionali con in particolare il mondo dell'Udinese che si appresta a preparare la sfida con la Juventus dal ritiro e lo fa con anche i temi che vengono ripresi quest'oggi dal messaggero veneto udinese che viene definita nelle mani del maestro Gigi la formula ritiro, questo è il tema principale nelle pagine di quest'oggi da ieri la squadra è in clausura dopo la seduta pomeridiana per preparare al meglio la gara con la Juventus e dimenticare la Fiorentina, il pullman bianconero ha portato i giocatori nella sede del ritiro e si sottolinea, ci sono le parole del direttore sportivo Manuel Gerolin, sarà il tecnico che deciderà di giorno in giorno se convocare la squadra in albergo dopo allenamento a seconda del rendimento quindi anche questo è un modo di responsabilizzare il mister, serve un altro atteggiamento ovviamente questo è uno dei temi rimarcati più volte e si sottolinea questa verifica quotidiana del lavoro che sarà inevitabile anche per preparare una sfida così importante, così difficile sotto le mura amiche, sotto l'arco dei rizzi si parla anche della prevendita, ci sono ancora 4.000 biglietti disponibili e molti sono proprio nel settore della tribuna Ovest praticamente esauriti invece i nuovi settori del Friuli per la sfida di domenica con i campioni d'Italia questo è il tema principale, c'è ovviamente grande attenzione, si sottolinea come siano già stati venduti 9.000 biglietti e ci sono però ancora alcune disponibilità all'interno dello stadio ovviamente vi invitiamo a monitorare tutti i nostri canali a partire da quello online, dal sito udinese.it per sapere tutto riguardo ai biglietti, sempre in questa prima pagina si parla poi di un altro tema che invece non riguarda strettamente l'udinese ma la prima panchina che è cambiata perché non c'è più rastelli sulla panchina del Cagliari e in pole position c'è Diego Lopez nella notte, secondo quelle che sono le ultime indiscrezioni sarebbe arrivato anche il via libera per il mister che peraltro ha già allenato anche in Sardegna restiamo però vigili su quello che è il panorama bianconero perché nella foto c'è una sorta di 5 tra Danilo e Kubayanto, un gesto d'intesa che idealmente spinge verso il ritorno del capitano solo Danilo infatti è già al lavoro, mentre per Larsen e Berami c'è ancora da aspettare un pochino sono ancora rimasti fermi dei tre possibili titolari da recuperare due continuano a preoccupare del neri il danese e lo svizzero hanno lavorato in palestra mentre il brasiliano era con il resto del gruppo quindi bisognerà monitorare da vicino questi due elementi per capire se potranno essere a disposizione della Juve il mister già nella conferenza stampa di vigilia della partita contro la Fiorentina aveva detto chiaramente come avrebbe puntato forte sul recupero di entrambi proprio per la gara, la Dacia Arena contro i campioni d'Italia uscenti vedremo in che stato di forma fisica, a che percentuale della loro condizione personale si presenteranno all'appuntamento in particolare ovviamente il mirino è puntato su Valomberami a cui è dedicato all'altra foto di pagina perché è stato elemento veramente molto molto importante delle scorse sfide e per quanto riguarda Struger è rientrato anche Silvan Wittmer che permette di gestire un pochino meglio le rotazioni parte alta della pagina per alcuni temi uno è legato alle ultime dichiarazioni di Francesco Guidolin nella mia carriera ho patito due grandi dolori l'ultimo la notte del 28 agosto 2012 quando l'errore di Michael Zoet a dischetto quel cucchiaio che non dimenticherò mai ci costò la sconfitta col Braga nei preliminari di Champions non è una dichiarazione nuova il mister di Castelfranco non ha mai nascosto questo aspetto senza VAR due punti in più questa è un'analisi che se vogliamo lascia un po' il tempo che trova perché abbiamo detto chiaramente come sia stato un'innovazione importante nel corso del campionato anche se è pur vero che senza questa speciale tecnologia l'Udinese si è vista annullare due gol e quindi si ritrova due punti meno in classifica legati al gol segnato con il Milan e a quello segnato contro la Fiorentina sarebbe comunque il Napoli sempre in vetta in questa classifica speciale che circola in Italia giustamente il messaggero ha voluto riportarla come curiosità e poi ancora a proposito di curiosità si parla dell'avvicinamento della famiglia Pozzo di Gino Pozzo al Real Valladolid appare come un'opzione ricorrente nel cambio di proprietà del Real Valladolid l'ipotesi è del quotidiano El Norte de Castilla che parla dell'acquisizione del club della Serie B spagnola dopo l'indiscrizione di Abola sul Tondela squadra della portoghese quindi diciamo che da quelle parti la famiglia Pozzo è tornata assolutamente di moda dopo l'uscita invece di qualche tempo fa dal Granada parte bassa della pagina per la Juventus invece si parla di Champions League ma la Juventus che è anche la prossima avversaria dell'Udinese Juventus per cui Max Allegri dichiara non è in crisi, non si sente in crisi il tecnico bianconero ci sono anche le parole di Chiellini con i portoghesi un sedicesimo di finale con andata e ritorno in effetti lo sporting sembra essere la criticità più importante ovviamente considerando che nel girone c'è una certa Barcellona e bisogna giocarsi il passaggio del turno in particolare con i lusitani che tra l'altro vantano tra le proprie file anche l'ex Bruno Fernandes c'è anche la Roma che va a casa Conte il Chelsea che recupera il Bomber Morata giocatore importante per noi il primo attaccante così come ha detto Antonio Conte quindi queste le situazioni principali con poi anche quelle che sono tutte le altre gare di un programma molto molto ricco che vedrà tra l'altro in giro da Juventus anche la sfida tra Barcellona e Olimpia Cos andiamo avanti con la lettura del messaggero veneto di quest'oggi uscendo un attimo da quelli che sono i canoni calcistici c'è la storia nel mondo del volley Susanna e sogno delle Olimpiadi la 19enne Comelli chiamata nella nazionale dei non udenti dopo il tricolore di beach volley punta ai giochi silenziosi quindi una grande soddisfazione per l'atleta che è di cassacco e che sta davvero emergendo nel panorama nazionale prima di passare al basket con l'analisi sul pianeta GSA reduce da finalmente il primo sorriso il primo squillo stagionale arrivato all'overtime ci colleghiamo con Stefano Passantino per avere tutte le informazioni sul traffico questa mattina nella nostra città buongiorno buongiorno a lei il traffico oggi è regolare in tutte le strade cittadine si è formato un po' di nebbia nella mattina quindi bisogna avere un minimo di attenzione alla visibilità grossi lavori non ce n'è c'è la chiusura di Vicolo San Giorgio a causa di una fuga di gas e continuerà anche oggi lo sfalcio delle piante via Levat quindi ci saranno possibili rallentamenti domani domani giorno 19 dall'ora 22 in poi ci saranno dei lavori della ditta che cambia i cavi della ditta Sirti in Piatale Chiavris quindi ci sarà un cantiere anche in Chiavris perfetto grazie a Stefano Passatino anche per queste anticipazioni sulla giornata di domani ovviamente un buon proseguimento di giornata che noi invece andiamo ad approfondire con i temi come vi anticipavo in precedenza della GSA perché dopo il successo last minute e adesso c'è anche un momento di crescita ulteriore che si attende per la formazione di Serie A2 Lardo versione psicologo e la pressione non uccide al di là delle due bombe decisive di Benevelli la squadra ha indovinato l'approccio contro Ravenna Apu per nulla impaurita e cresciuta in consapevolezza giocando c'è finalmente un po' di sorrisi quello di Lino Lardo e quello di Kindle Dykes sorridenti al termine della partita vinta e tra l'altro una partita vinta con una giocata importante di Benevelli che è diventata anche il momento più significativo di questo turno perché quella tripla a 9 secondi sta facendo il giro della rete c'è anche un piccolo scatto proprio di Benevelli è quello il primo posto della top 10 delle azioni più spettacolari del girone est di Serie A2 e sempre da quella da quel clip da quella video c'è anche il quarto posto invece di Montano che ha costretto proprio l'Apu all'overtime una partita che è stata sicuramente molto molto emozionante ma che soprattutto ha regalato la prima vittoria importante anche appunto dal punto di vista mentale psicologico adesso si potrà lavorare con questi punti alle spalle e soprattutto con la volontà di continuare a confermarsi ritroviamo il mondo del calcio nelle pagine successive ovviamente con il palcoscenico dei dilettanti si parla di Flaibano ancora lassù adesso arriva lo scontro diretto domenica c'è la sfida con l'altra capolista Fiume Bannia Sanquirino si dimette Toffolo al suo posto Michele Nardin questo è il punto sulla promozione poi ancora il Camino rimontato dal Pravis Domini il mal di trasferta adesso è ufficiale la Tarcentina che ha sfruttato il fattore campo mentre l'Aurora Remanzacco è al quarto KO di fila quindi queste le tematiche principali del campionato di promozione sotto si parla anche della seconda categoria con il 3 stelle che cede subito il comando sconfitto da United che sta in testa con Rangers e Sedegliano ancora altre notizie per quello che riguarda il mondo dello sport il volley il personaggio Lirene l'emigrante che esordisce in B1 nel suo Friuli a 15 anni la Benedetti si è trasferita in Lombardia al Ladro domenica è scesa in campo contro San Giovanni al Natisone un'esperienza della 15enne di Buia che dunque l'ha portata fuori ma è a caccia del grande salto in Serie A poi il rugby Udine la rugby Udine che non sa vincere in casa secondo capò di fila al Gerli la società pensa a un pilone per rinforzare la squadra infine sempre parlando di giovani Alessia Dolce reginetta del torneo Young Cup la latisanese trionfa nell'Under 12 Elisa Mechia di Moruzzo è arrivata in finale nel Under 14 chiudiamo l'appuntamento con l'edizione di Udine del messaggero ma riapriamo il messaggero edizione di Pordenone perché è momento di Coppa Italia la Coppa Italia di Serie C che al menti propone anche un duello intrigante tra Pordenone e Vicenza perché il Pordenone e i Neroverdi vogliono pesare anche le seconde linee è una gara secca per il secondo turno chance per i vari Zommers Nunzella e Raffini squadra rimaneggiata anche per i padroni di casa che però non possono fallire soprattutto per quello che è il momento è curioso anche perché al di là delle parole di Colucci che vi riportiamo attendo curioso risposte da molti c'è ovviamente la volontà di far lavorare e di mettere in luce quelli che hanno magari trovato meno spazio fino a qui Colucci ha detto abbiamo un gruppo che lavora a sodo di allenamento in allenamento e la Coppa Italia è un'opportunità preziosa ma soprattutto si sottolinea come di fatto nell'inizio del pezzo del Berto Bertolotto magari questa Coppa Italia di Serie C non è l'appuntamento più importante avrebbe volentieri evitato anche perché non dimentichiamocelo è ancora il Pordenone nel cartello della Team Cup principale quella dei Grandi visto che all'orizzonte il 28 novembre a Cagliari c'è un appuntamento importante contro una formazione che tra l'altro nel panorama della Serie A ha qualche grattacapa appena cambiato allenatore e quindi è vero che magari in questi casi la Coppa Italia può servire anche per ricaricare un po' di energie per essere un aiuto per il campionato ma magari lo stesso Cagliari quando arriverà invece alla Team Cup versione dei Grandi non ci arriverà proprio con grandissimo interesse magari proverà a risparmiare qualche giocatore per il suo campionato quindi staremo a vedere comunque questa sfida che si giocherà al Menti alle 18.30 la seguiremo ovviamente con attenzione e vi riporteremo come al solito tutte quelle che sono state le vicissitudini anche di questo match chiudiamo l'edizione adesso sì anche del messaggero di Pordenone ci spostiamo sul gazzettino dove ritroviamo ovviamente tutte e due i temi che abbiamo già affrontato quello dell'Udinese in ritiro lo individuiamo nella pagina 11 dell'inserto dedicato al mondo friulano in ritiro per provare a guarire ogni male del neri preparerà la sfida con la Juve senza poter accampare attenuanti i Pozzo non gradiscono gioco e punti e sono pronti a decisioni drastiche quindi si parla ovviamente di una situazione complessa in Casa Bianconera con poi le parole anche qui del direttore sportivo Manuel Gerolin nessun provvedimento punitivo cerchiamo solo di mettere tecnico e calciatori nelle condizioni migliori si rimarca come Danilo sia pronto si punta anche al recupero di Berami e di Struger Larsen il dato positivo è proprio questo l'infermeria pian piano si sta svuotando quindi finalmente una nota positiva da questo punto di vista non è escluso si sottolinea anche che in questi giorni si provino soluzioni tattiche nuove per variare il gioco bianconero e poi in chiusura di questa prima sportiva prima di passare adizione alla pagina o meglio dedicata al Pordenone si parla di una Svezia che sarà prossima avversaria dell'Italia ma non nella Dacia Arena la Dacia Arena si consolerà con i campioni d'Italia visto che si giocherà a Milano c'era stato un momento in cui si sperava si auspicava che sarebbe stata Udine la sede di questa partita in realtà alla fine la Nazionale giocherà a Milano si sottolinea però il buon trend il buon ritmo della vendita per la gara di domenica a Udine sono esauriti i posti dei settori popolari rimangono in esposizione pochi posti per distinti e la tribuna centrale e laterale ovviamente con ancora questi giorni che mancano da qui al giorno gara ci aspettiamo di vedere un colpo d'occhio davvero molto molto importante e quel cartello sold out a cui siamo abituati ormai da diversi anni quando arriva nel nostro impianto la Juventus prima di andare a parlare del Pordenone con la pagina dedicata proprio ai neroverdi sul gazzettino vedo pronto il nostro collegamento in esterna quindi cedo immediatamente la linea alla nostra Alice Matteloni per conoscere anche l'argomento di cui tratteremo questa mattina buongiorno Alice sì buongiorno Maurizio buongiorno a tutti e noi siamo qui pronti siamo nell'area dell'ex Macello di Udine che è appunto un'ampia area restituita alla città dopo infatti il museo di storia naturale è giunto il momento dell'innovazione allora noi siamo qui alla Faber Lab che è appunto un'ampia area che è stata proprio inaugurata recentemente il 9 ottobre un'area dedicata all'innovazione all'artigianato che appunto segue il passo della tecnologia allora andremo proprio a conoscere questo settore approfondendo quelle che sono tutte le tematiche relative all'innovazione ovviamente un'area voluta strettamente dal comune in collaborazione con la Confartigianato è uno spazio dedicato principalmente ai giovani agli studenti che vogliono entrare appunto in contatto col mondo del lavoro e delle imprese ovviamente più tardi ci collegheremo nel corso di Buongiorno Friuli e vi spiegheremo un po' di che cosa si tratta perfetto grazie Alice per questa introduzione ci troveremo nella prossima ora insieme a proposito di innovazione ci spostiamo dalla Faber Lab di Udine a quelle che sono le innovazioni invece del Pordenone di Colucci in vista del prossimo match quello di Coppa Italia di Serie C si gioca in Coppa c'è spazio per i secondi il trofeo di categoria è quasi un impaccio e Colucci lascia a casa la squadra titolare almenti l'occasione per chi ha trovato meno spazio di mettersi in evidenza per il proseguo di stagione fino a tutto novembre sarà un tour de force avversari che però vivono un po' di difficoltà dopo un buon inizio hanno collezionato solo un punto e nelle ultime gare di campionato vivono alcune difficoltà societarie oltre ad un trend non positivo proprio a livello di rendimento nella sfida con il mestre tiraria del Livenza avversari invece domenica mister Zironelli e tanti ex biancorossi una spedizione che il mister del mestre spera possa portare a gioire in quel del Bottecchia molti si scrive nel pezzo lo ricordano alla Sacilese quindi esperienze logisticamente anche vicine chiudiamo anche il gazzettino e adesso con la gazzetta prendiamo un po' più di ampio respiro anche internazionale visto che l'abbiamo già detto con la Juve prossima avversaria c'è anche la Champions League è ripartita la Champions League e c'è un titolo abbastanza evidente Napoli che peccato perché il City ha prima dominato poi tremato contro la formazione di Sarri il volto che non sorride è quello di Dries Mertens perché dopo la partenza horror degli azzurri sotto 2-0 in 13 minuti c'è stata una grande occasione con Mertens che ha sbagliato un rigore poi nella ripresa si è rivista l'orchestra di Sarri di Avarà dal dischetto fa centro ma non basta nell'altra partita lo Shakhtar vince in casa Feyenoord e va a 6 punti quindi si complica un pochettino la strada per quanto riguarda il Napoli che speravo ovviamente in un risultato diverso da questo appuntamento c'è spazio sotto la testata ovviamente per il playoff mondiale a proposito di competizioni ancora più internazionali Svezia hanno i due Italia poteva andare peggio playoff di ritorno ufficializzato a San Siro il 10 novembre si giocherà invece a Solna per gli spareggi mondiali dunque un'avversaria storica anche per gli azzurri Mimmo Cugini scrive occhio soprattutto allo stress certo la Svezia non può fare paura ad un'Italia che vuole il mondiale certo è che con quello con le sofferenze che sono viste in alcune gare degli azzurri non bisogna ovviamente sottovalutare l'impegno pur senza caricarsi troppo di stress come scrive la Rosea e poi gli altri temi dai Juve allegri anticrisi con Higuain di Bala Torino arriva allo Sporting e poi anche la Roma però perché c'è la missione di Dzeko caccia al Chelsea Conte che dichiara non mi fido di questi italiani anche un abbattuto ovviamente un po' un po' così da parte del tecnico dell'ex commissario tecnico e dell'ex allenatore della Juventus le altre sfide c'è Carabag Atletico Madrid sempre per il girone della Roma dall'altra parte la sfida che abbiamo già inquadrato della Juve con lo Sporting e Barcellona Olimpia Cos sono 11 metri di rimpianti quelli del Napoli e soprattutto di Dries Mertens perché c'è stata una partita molto molto importante da parte della formazione di Sarri con un avvio super del City a cui però ha risposto la formazione partenopea nonostante l'errore di Dries Mertens dal dischetto di Avarà invece che ha trasformato l'altro penalty Napoli che è andato KO la squadra di Sarri sbaglia l'approccio ma comunque si è ripresa ora però la qualificazione è in salita proprio in virtù del successo dello Shakhtar le gerarchie cambiano il re si fa ipnotizzare il ragazzino non trema il belga che ovviamente è rimasto molto deluso dall'errore sul penalty che rabbia ha detto un errore che pesa il mediano ovviamente che invece è rimasto molto molto soddisfatto primo gol in carriera noi ovviamente queste tematiche della Champions le affrontiamo ci interessano fino a un certo punto però ci interessano anche per capire quello che è il momento della Juventus perché la prossima avversaria è inevitabilmente concentrata su quello che è l'altro appuntamento importantissimo di questa settimana perché stiamo dicendo l'avvicinamento a questa partita della Dacia Arena sicuramente i campioni d'Italia in carica non possono arrivare qui a cuor leggero sono reduci da un pareggio soprattutto dalla sconfitta con la Lazio anche in Champions però è un momento chiave perché dopo la vittoria sull'Olimpia Costa adesso bisogna cercare per quello che riguarda il corso di Allegri di riuscire a strappare punti per la qualificazione e la Juve batte un colpo importante in casa Allegri anticrisi contro lo Sporting una sfida decisiva poi mi diverto in A il tecnico allontana i fantasmi non dobbiamo deprimerci se vinciamo le due gare con i portoghesi siamo qualificati il campionato ci vediamo a marzo sarà un bel finale quindi allontana un po' quelle che sono anche le voci di crisi all'Allianz Stadium dovrebbe giocare Iguain come riferimento centrale con Di Bala Quadrado e Manzucic alle sue spalle Pianici e Matuidi in mediana difesa composta da Buffon in porta Sturaro a destra Alessandro a sinistra Chiellini e Benassia in mezzo c'è un'avversaria interessante perché lo Sporting è formazione comunque intrigante per quello che concerne il campionato portoghese noi inquadriamo però un elemento Bruno Fernandes con la casacca numero 8 mi è scappato anche un giallo un po' troppo grande eccolo qui adesso il tondino è quello che desideravo è Bruno ovviamente l'elemento che conosciamo meglio in virtù del suo passato all'Udinese ha rilasciato anche alcune dichiarazioni proprio qui è sottolineato che conosce già un po' alcune indicazioni su come fare male alla Juve vedremo una Juve a cui tra l'altro quotidiano di casa Tutto Sport chiudendo la nostra rassegna stampa di questa mattina con gli sportivi chiede una cosa molto semplice svegliatevi questo è il titolo di Tutto Sport che rende bene l'idea del momento la sfida con i portoghesi è decisiva per la qualificazione agli ottavi Allegri si affida alla vecchia guardia per cancellare i segnali di crisi dunque questi i temi principali di quest'oggi sui quotidiani sportivi e non solo adesso ci prendiamo solo un attimo di break e poi torniamo con Buogiorno Friuli con il nostro appuntamento con l'approfondimento della mattina restate con noi grazie a tutti